Individemolo No, no, non te lo può fare No, ci ho provato pure io, lo sai perché? Perché quando tu lo è in digitale, quando tu lo vai a scaricare è già compresa il nuovo aggiornamento, capito? Che ti credi che già non ci ho provato a disinstallarlo e riprovarlo dal digitale Ti dice solo giocare in modalità offline perché non è scaricato tutto Però tu lo vai a fare, il glitch, oppure tutti quelli che c'è stanno Non ti fa funzionare Cioè purtroppo se era in cd, per esempio, se era in blu-ray Tu avvia il gioco senza aggiornare e tu lo avviai e lo faceva al volo, capito? Ancora un quarto d'ora da giocare Perfetto oggi, le passaggi Ecco Tiffo Prova Tiffo Ma ancora in gioco pericolo Eh? Si riprenderà con la rimessa laterale Sì, in teoria è una cazzata, eh Te crei un personaggio Quello che vuoi utilizzare Una volta creato quello Tipo te fai... Te fai un pezzo da solo Tipo che ne so, arrivi alla tomba de Odeon, per esempio, no? Giusto? Ammazzi il primo boss Eh, poi te ne crei Te ne crei Esci Te ne crei un secondo Vai andosta al coso Posizioni, allora Posizioni un ciotolo Un ciotolo Il ragazzo si chiama Sì, un ciotolo Tanto c'è sapore su YouTube Poi rientri Sì, sì Rientri con quell'altro Con quello tuo Senza che fai l'aggiornamento Pfff Ieghi proprio a cannone Il gioco ti dirà No problem, amico No problem Poi ragioni E ti rimane aggiornato, capito? Al massimo Sì, ma adesso Aspettiamo di scosta partita E ti dico Usato quanto meno sta No, il digitale Mo si fa 34 euro Penso che usato Lo troverai su 17, 20 euro Aspettiamo, te lo dico Quanto sta usato Ti dico qua dalle parti nostre Ti dico più o meno Quanto sta usato E quanto sta usato Più o meno valutato Dalle parti Do a tutto Do è? Sicilia, no? Calabria, Calabria Aspetta C'è un amico mio Che è Mattia Che gioca con me Lo conosco un po' di persone Aspetta, ora vogliamo Pure lui è calabrese Un attimo Perché lui c'è la Bloodborne In CD Si chiama Mattia C'ha tutti i giochi Simili a Bloodborne Bloodborne Difetto avversario È piazzata male qui Sì, Dark Soul Vabbè, poi c'ha pure È bravo sui giochi di guerra È bravo su Tech N'hai capito? Intervento di pure istinto Su questa conclusione Da pochi passi Sì, spai, mo ci mando Ci mando un vocale Occhio al corner Gran tiro Esce E recupera il pallone Allora Mattia Matti Ma senti un po' Ma dalle parti tua Quanto sta Bloodborne 1 In Blu-ray usato Eh Io sto parlando di Bloodborne 1 In Blu-ray usato Fammi sapere Ok Proda le parti tua Calabria Fammi sapere Mi ho mandato il vocale Speriamo che mi risponda subito Ah, mi sono diventato Brutta bottana Ecco Ecco Ero dimenticato Dice qualcosa Negra Sì, sì Bottana è negra Capito? Mi ha venuto pure a trovare qua La Latina Mi ha venuto a trovare Sì, sì Oh, 26 punti Dove fare un'altra partita E vincere Tipo in seconda divisione Dai, rega Dai, dai Eccola, eccola Eccola La letta Fa senti che dice Il polpo Tanto come minimo Me rovina Oh, la Letty Mica risponde Quando fa così Te lo giuro E' proprio Ecco Sta a scrivere Sta a scrivere Guarda un po' Che cazzo ne so Mi ha scritto Ignorante Vai su GameStop Digital Game Qualcosa che sta là Delle parti tua E lo cerchi Mi dici il prezzo Perché Il prezzo da me Penso che non è uguale Al prezzo che avete voi Ignorante Ignorante Bottana 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 Con la figa Spalancata Non mi metto A chiamare La Ladri Stop Non ti dico Di chiamare La Ladri Stop Ho detto Vai sul sito Della Ladri Stop Oh, ma che sei Mongolo Scrivi GameStop Calabria E te lo dice Quanto sta Ignorante Vai sul sito Prendi il numero E chiama L'idea Pum Bastardo Te lo giuro Testa di cazzo Sta a scrivere Testa di cazzo Ma ci sei O ci fai In Calabrese Aspetta Il prezzo è uguale A tutta Italia Ok Catanzaro 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 Testina di cazzo Oh Brutta faccia Da fregna Volevo Facca bocciate Di Catanzaro Catanzaro Testina di cazzo Io ho fatto male Facci da fregna Volevo Facca bocciate Testa di cazzo Andavete quanto costa Qua Sarebbe quello con tutti i DLC Si Quanto sta Ma nuovo Usato E allora E' quello Il prezzo La pregiunta L'avevo detto Che era 20 25 euro Vediamo un po' Qua sta scritto Usato 24 euro 98 Si Pure qua da noi Si Sul sito Questo qua Dei latino Si Eh Ti ho detto Che era quello Il prezzo Io sto a livello 350 Senza grinch Pure io No Il fatto Non è difficile Il fatto Che Si Mette Proprio Con la Santa Pazienza E Quello Il Cavolo Capito 20 minuti Calcola Che sono sempre 10 La metà Eh Si Descazza Un po' Il Cazzo Mi ha detto Mi ha detto Mio fratello Che si mette sempre Con televisione a palla Pare che è diventato Sordo Che sta a vedere Cartone animali Oh Si Ti pareva One Piece One Piece A palla E' Si sapeva che stai fissa con One Piece se le hai viste tutte le puntate, tutte, pure l'ultimo che avevano fatto l'ultimo episodio, ancora vedece l'ultima serie, continua di vedece sempre da capo, Dragon Ball, Cavendieri dello Zodiaco, capito? Non so quanti anni c'era, 37 anni? Purtroppo, purtroppo! Oh, tu calcola, ogni volta, non sai quanti giochi ho, 80.000 pure per la 3? Lo sai, lui è che gioca sempre ai FIFA, per lui non esiste, altri giochi esiste, solo FIFA, ma che scherzi, perché la prestazione è diventata solo per FIFA? Io lo sai, i giochi li tocco, vabbè, una volta invece imparo, oltre proprio li platino, una volta platinati li accantono un po', c'è gioco così, quanto cazzo mi pare. Quello c'è, l'ultimo UFC, ho capito, è quello che ho pure io, quello che è uscito pure per la PlayStation 3, no? Oh, no, 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 no. Lui, una volta che ti impari le mosse e i movimenti è figo eh. Si, lo so, lo so, si, ho visto un gameplay. Dunque è più figo, si intitola proprio MMA, il titolo adesso non me ricordo, comunque c'è stanno le combo, fighissimo proprio il problema è che si è già lì qua sono un po' di difficoltà la porca troia uè ecco lo schieramento dei padroni di casa il 4-3-3 con cui scendere in campo oggi ricarica quella che è la filosofia del tecnico segnare un gol in più degli avversari è un modulo che in passato ci ha regalato un match ricchi di gol e chiede il suo esperimento non rimanere delusi mamma mia che traversa porco il dio l'allana baraglia metri ottimo intervento danny roves l'allana il difensore è un muro su questo tiro si veda costretta al rinvio per liberarsi dal frasic avversario occhio cerca l'area del rigore no che gol ma vieni ma vieni sono il campione sono il campione sono il campione